Educare gli studenti a svolgere un ruolo attivo nella vita civile democratica, contribuendo alla difesa di una cultura universale dei diritti umani. È l'obiettivo dell'intesa siglata dal Comitato Diritti Umani di Palazzo Lascaris e dall'Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione di un questionario destinato alle scuole medie e superiori del Piemonte, per conoscere il livello di consapevolezza degli studenti sulla cittadinanza attiva. I risultati ottenuti saranno il termometro su cui organizzare l'intervento formativo. Questi sono protocolli che aprono orizzonti nuovi per la scuola, quindi consentono anche di orientare la didattica verso contenuti non solo teorici, ma anche contenuti concreti e quindi sviluppare delle competenze che sono competenze di vita, cioè di cittadinanza attiva e quindi competenze trasversali di vita che servono ai nostri studenti per poter stare al mondo prima ancora di poter stare in qualsiasi luogo, sia che decidano di proseguire gli studi, sia che decidano di misurarsi col mercato del lavoro. Una sorta dunque di piano industriale dei diritti per migliorare la qualità civile democratica della comunità e del paese, obiettivo a cui il Comitato Piemontese tende fin dalla sua Costituzione. Da subito ci siamo detti che bisogna far sì che l'istituzione si apra al territorio. Si apra al territorio in mille modi, questo è uno, per entrare nelle scuole, per avvicinarsi a quelli che sono i giovani, che purtroppo ad oggi sono ancora spesso malinformati o troppo poco informati sui diritti umani, e inventarsi strumenti nuovi perché le scuole possano essere informate, lavorino al nostro fianco, questo vuol dire essere un'istituzione aperta.